Sì, grazie Presidente, io voglio intervenire in difformità dal mio gruppo perché a parte il fatto che questa mozione è stata copiata pari pari da un articolo di Paolo Maddalena che è uscito qualche giorno fa sui giornali, insomma poi è assolutamente ridicolo che piloti di 747 Jumbo possano andare a pilotare un aereo, un Canadair che ha tutt'altra specificità e necessita di corsi di mesi e anni per poter essere usato adeguatamente così pure i piloti degli F35 non sanno pilotare un Canadair ci sono delle specificità che purtroppo la consigliere Guerrini non conosce ma neanche Paolo Maddalena da quale è stata copiata questa mozione quindi ritengo che sia del tutto inapplicabile e tra l'altro non trovo neanche l'urgenza di questa mozione perché voglio dire che gli incendi ci sono sempre stati non ci stanno solo i Canadair nella protezione civile né comunque in quello che era il corpo forestale dello Stato né nei vigi del fuoco ma ci sono anche gli elicotteri che sono utilizzati per spegnere gli incendi ma non ci inventiamo che gli piloti degli elicotteri possano andare a pilotare i Canadair inoltre mi preme dire che purtroppo forse qualcuno che ha abolito il corpo forestale dello Stato ha la maggior parte delle responsabilità rispetto a questi episodi e quindi perché poi è stato addirittura privatizzato il servizio con i Canadair forse magari comprare qualche altro Canadair addestrare qualche altro pilota sì però questa mozione secondo me è assolutamente invotabile grazie 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 grazie